ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video tutto tech stiamo facendo questo video molto velocemente perché perché vogliamo invitare tutti i neofiti che magari sono attratti dal mondo della domotica per quanto riguarda il nostro dispositivo amazon a correre immediatamente sul sito amazon perché c'è in offerta l'eco dot di terza generazione a 19 euro e 99 quindi per chiunque volesse entrare nel fantastico mondo della domotica oppure volesse fare un regalo a familiari amici conoscenti e ha capito che sono persone dedite o comunque che vanno verso la tecnologia sicuramente è un ottimo regalo i tempi di consegna attualmente quando sto facendo il video sono del 29 dicembre c'è una data prevista del 29 dicembre tenete presente che comunque è probabile che se le scorte aumentino riescono ad anticiparlo anche a me è capitato con l'eco dot di quarta generazione che era prevista per più o meno il 20 dicembre poi sorpresa dopo tre giorni mi è arrivato quindi anche su questo ci potrebbero essere delle sorprese positive naturalmente vi lascio qui sotto in descrizione il link per poter cliccare così non perdete tempo e vi rimanda direttamente ad amazon per poter far l'acquisto e se volete abbiamo fatto un video per quanto riguarda l'installazione dell'eco dot 3 di terza generazione e non solo comprandone due potete metterli in accoppiata e fare una specie di non dico su round ma un effetto stereo quindi vi dà un effetto un po più avvolgente come musica e sicuramente andrete a migliorare la qualità per quanto riguarda l'ascolto della musica naturalmente è un ottimo prodotto che noi vi consigliamo perché se no non avremmo fatto questo video io direi che per questo video è tutto ci vediamo al prossimo ciao ciao